Sull'argomento riguardante la revoca dei depuratori a Girgenti Acque interviene con una nota stampa alla stessa società, che tende a precisare come durante gli anni in cui ha avuto la gestione si è impegnata per portare in efficienza gli impianti di depurazione che, comunica la società, versavano in situazioni estremamente precarie in cui, in alcuni casi, esisteva solamente la struttura di contenimento. Secondo Girgenti Acque il problema sta a monte, cioè nelle pessime condizioni in cui ha ereditato gli impianti dai precedenti gestori e nei mancati finanziamenti pubblici che ne hanno impedito la totale riqualificazione. Girgenti Acque pone la massima fiducia nell'operato della magistratura, si legge nel comunicato, così da poter appurare l'entità e la qualità dell'attività svolta dalla società. Dall'ente guardano comunque anche il lato positivo, in quanto adesso che la gestione degli impianti è passata al Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, sarà finalmente possibile superare le difficoltà burocratiche nello sblocco dei finanziamenti pubblici per il rifacimento delle strutture, che hanno anche compromesso l'efficienza dei processi depurativi nel nostro territorio. Gli impianti affidati alla regione, ricordiamo, sono quelli di Agrigento, Villaggio Mosè, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Licata e Real Monte. Intanto c'è chi chiede di inserire nell'elenco anche quello di Favara. È il caso del sindaco Anna Alba, che con una PEC indirizzata al Procuratore della Repubblica di Agrigento, ha chiesto chiarimenti sul mancato inserimento tra gli impianti revocati a Girgenti Acque di quello di Contrade Sacchimento, sotto sequestro per gravi inefficienze da febbraio 2016, così come anche accertato dall'ARPA. Alba chiede dunque alla Procura della Repubblica di affidarne la gestione alla regione siciliana, così come è stato fatto con gli altri impianti.